Euroregione News Si riparla della linea dell'impero che fu. Il collegamento ferroviario Trieste-Lubiana-Vienna di Austro-Ungarica-Memoria potrebbe tornare di attualità. Su invito della regione Friuli-Venezia-Giulia si sono incontrati a Trieste per un tavolo tecnico e di fattibilità i concessionari delle ferrovie italiane, slovene e austriache. Il progetto sarebbe percorribile se proposto con i necessari raccordi al sistema trasportistico locale. Nell'occasione è stato ribadito l'interesse comune alla riattivazione di una linea che riveste carattere storico per il capoluogo regionale e che in passato metteva in rete le città della Mitteleuropa. Per centrare l'obiettivo si ipotizza di attingere o al programma europeo Central Europe e Spazio Alpino che finanziano la cooperazione transnazionale e ai programmi transnazionali Italia-Austria e Italia-Slovenia. Intanto si parte con un business plan, un'indagine di mercato e un servizio pilota per testare l'efficacia dell'eventuale riattivazione della linea e valutare se i costi relativi potranno essere sostenibili nel lungo periodo attraverso l'esercizio della linea stessa. Nel contempo è stato proposto di attivare un tavolo di lavoro per affrontare e risolvere le criticità del collegamento tra Trieste ed Opicina e degli attuali servizi ferroviari in coincidenza con Ljubljana relativamente all'interoperabilità fra i due paesi e all'adeguamento della viabilità adiacente alla stazione di Opicina. Avete ascoltato Euroregione News